Prevenire il rischio dei tumori è possibile, ponendo una maggiore attenzione sugli screening e sulla prevenzione primaria e secondaria. Questo è il focus del convegno che si è svolto a Cheremule sulla prevenzione oncologica, organizzato da tre concittadine del piccolo paese del Meilogu, Barbara Marras, Arcangela Spada e Sandra Sanna, in collaborazione con l'associazione Mariangela Pinna di Sassari. La serata è stata allietata dal coro Bogest e Cheremule e dal duo I Soliti Gnoti. La cura migliore per i tumori è cercare di non farseli venire. E per cercare di non farsene venire bisogna porre in atto tutto quello che noi conosciamo bene, ed è tanto, per cercare di limitare, non abolire, è impossibile abolire, limitare il rischio di ammalarci dei tumori. In primis il fumo, responsabile di oltre il 35% dei tumori del polmone e non solo, e l'altro l'alimentazione. L'obesità è dominante, è sempre più dominante, siamo diventati sempre più americani. L'obesità e il fumo sono responsabili, insieme, di circa il 70% dei casi dei tumori, che stanno diventando sempre più frequenti anche nell'età giovanile. La prevenzione secondaria è la classica, la mammografia. La ricerca del sangue occulto nelle feci ed eventualmente della colonoscopia riduce notevolmente il rischio di ammalare il tumore del colmo. E infine, i tumori ginecologici. L'adesione a questi tre tipi di screening, che sono quelli codificati dalla comunità mondiale, è intorno al 50%, cioè circa il 50% degli uomini e delle donne che ricevono l'età non si presenta. Sa qual è il motivo fondamentale? La paura. L'associazione, il supporto psico-oncologico, viene offerto alle pazienti, a tutte le pazienti che si rivolgono all'associazione, viene offerto in forma gratuita. Noi facciamo in genere una consulenza, dove cerchiamo di capire il disagio principale. Si sceglie con il paziente la modalità più adeguata per proseguire il percorso.